Il ruotolo Ciro Il ruotolo C Categoria del 75 Terza serie Al tappeto Impeciati Luca Scatena Aldo Il ruotolo Ciro Allora sul tappeto ci Zabbia Paolo Zanette Emanuele Zanette Emanuele Intanto si preparano Al tappeto G Mascotto Azzara Zanette Emanuele Vince Carpagna e Riccardo Sul tappeto Di Ruoco Massimiliano Pianezzolla Riccardo A seguire Piccola e Luigi Bendetta Marco Vince Zanette Sul tappeto Mascotto Azzara Si preparino Grava De Felice Vinci a Trollis Massimo Azzara E' un'esercito Azzara Inizio Gira, 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 passano, passano. Categoria 60 kg. Seconda serie al cappello.